All'ultima occasione per redimersi. Sono Nicolas Cage. Che pistola è? Mi fido solo di due persone al mondo. Una di quelle sono io. L'altra non sei tu. Mi fido solo di Tony Caridi. Che diavolo di macchina. Per tua informazione, non carico autostoppisti. Non ho alzato il pollice. Oh yeah! C'è una rista in arrivo. Quella bambina è tutto ciò che ho. La mia vita è stata tutta un'antesa. Adesso ha un senso. Voglio venire con te. Oh yeah! Non puoi fermarmi. Ti ucciderò. Prima di allora ti avrò rubinato. Che pistola è? Ci sarà qualcuno dentro? Con te ci rivediamo quando avrai 73 anni. Con te fra tre mesi. Che cavolo significa? E va in gris, girato in 3D. Non vorrei essere in te quando Satana lo scoprirà. Che può fare? Lasciarmi fuori?